bella a tutti ragazzuoli benvenuti o bentornati nel mio canale oggi siamo qui di nuovo su sta serie del cazzo ciao ragazzi che manca solo una sconfitta e ci tocca fa la tortura e raga staserie non è durata niente cioè non riuscimo a segnare non riuscimo i portieri si fanno gli autogol da soli comunque niente ricapitolando ci mancano due punizioni un gol da merda un gol da distanza e un gol schillato ci manca un caso raga preparate cioè se perdiamo sta partita devo chiudere tutto devo chiudere no raga cioè io vi giuro sembra che lo famo apposta raga cioè non è possibile raga non è possibile cioè sembra veramente che lo famo apposta ma come cazzo si fa ormai gioco a sto gioco non è possibile non si vincevamo io oh cominciamo a andare in chiesa quindi non so fanno qualche cazzo non lo so cioè prima vinciamo sempre vincevamo sempre sempre i peggio gol non riusciamo più a tira in porta e a me nel compito prima qualche cosa buona faceva qualcosa perché comunque le cazzate le fanno sempre però però sono le nostre bro si sono i nostri ehm beh ti pare che i quelli dell'altri fanno le cose quelli dell'altri fanno i compiti fanno ultimessi mi pare poi le preggiano vero non abbiamo vinto neanche una partita cioè guarda io si go qua cinque difensori mortacci monstri smarcate smarcate fa quello che ti pare no vabbè io mi sono rotto il cazzo io mi sono rotto le palle mi sono rotto tutto non ce la faccio più a vedere sti stronzi che te fanno guarda un po' percorso che ho una palla per quanto tanto eh dai papà tu eh mi vado la buona pure a noi ma è davvero eh papà tu bello sti carlora sei più bello però eh 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 madonna santa intanto ci segnalo subito che te prega eh che cosa fai che cosa fai eh 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 lo sapevo io che andava a finire così male Asciuga ma che fanno Bravissimo Ecco No ma come fai a dettere un'altra Ma mi spieghi che cosa fanno No no Io non lo so Sì ho capito ma perché Fa quelle cappellate Perché Tira tira così se le amore guarda la distanza Bello Bello Cioè neanche i tiri a noi Che ci vengono più bene Non hai capito Oh ma dai infatti Dai oh cioè Ha preso tutto tranne che la palla Ma vedi che questo sta a perdere tempo Addo Spettagli le gambe Spettagli le gambe No vabbè n'è possibile Cioè n'è più possibile Non ho fatto niente Non ho toccato niente Posizione Che d'ora Bello Sì Dai 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 Cazzo No Troppo ritardo 2 a 2 Siamo riusciti a ripare già di nuovo Cioè di nuovo Siamo riusciti a ripare già di nuovo Eh signore Va benissimo grande signore Guarda questo Guarda quest'altro Si è rincovinito con le gambe su Ma che stop ha fatto? Non lo so Non lo so Non lo so Penso se ridere o piangere Bello Ok esce Oh Mamma mia Oh La butta fuori eh Dei buttalo fuori eh No no Se no già Ah pezzo di merda Eh vieni la migliotta Quello era fatto No Errore Lavoroso La bischietto Nooo Ah No che ho fatto La palisa di Gheranus Io Vado all'angoletto Merito davvero la punizione Io la metto qua Non mi muovo più Bello Va bene Oh Eh Eh che cazzo Punizione Vai Punizione rega Dai I rigori Posso sbagliare ma Eh punizioni No dai Su Perché lo sapete Lui è tipo un Andrea Pirlo Capito Lui dove le punizioni Sono rigori Ma no Ma almeno è l'obiettivo L'obiettivo Ma è vero È vero Il caputano Vaffacù Vada E si chiude così il primo tempo E niente ragazzi Qui c'è stato un piccolo problema Con Con la registrazione Si è bloccato tutto E niente In pratica La siamo andati a perdela Abbiamo preso Un'altra traversa su punizione Un'altro call Da distanza Avevamo fatto Però Non è passato E Niente Ci toccava la tortura